Salve a tutti e benvenuti qui su Leverstep. Oggi parliamo di Strip Silence, una funzione veramente comoda che ci permette di rimuovere sostanzialmente il silenzio. E che purtroppo su Ableton non c'è. Maledetti a loro, tutti la stanno aspettando. Speriamo che magari su Ableton 12 la metteranno. Su quasi tutti i programmi c'è, come ad esempio Reaper, c'è su Logic, c'è su Bitwig Studio mi pare, c'è anche sui programmi di video editing, c'è praticamente ovunque e su Ableton ancora non c'è. E la funzione è veramente comoda come vi dicevo, adesso vi faccio vedere alcune cose, capirete l'importanza di togliere il silenzio. Quindi, adesso vi faccio vedere diverse alternative, fortunatamente ci sono, adesso ve le faccio vedere, sono mi pare 4 o 5, ma l'ultima è quella. Spettacolare, non me lo aspettavo, stavo per fare il video, poi all'improvviso mi sono detto, aspettavo voglio cercare nuovamente, perché io devo cercare ovunque, in ogni angolo di internet, proprio ovunque. E ho trovato, mi sono imbattuto in un piccolo programma, che ci va a dividere, ci va a rimuovere più che altro tutto il silenzio di tutti i file audio e addirittura ci crea un progetto con tutte già le clip tagliate. Bellissimo, bellissimo, ora ve lo faccio vedere. Prima vi faccio vedere, ovviamente, altre alternative, perché magari alcuni non vogliono installare questo programma, o perché magari su alcuni sistemi non funziona, tipo su Mac ancora c'è una versione sperimentale, ok? Però, provatela. Allora, andiamo a vedere subito all'interno però del mio computer questa funzione, qual è il beneficio che possiamo trarre da questa funzione. Beh, allora, qui ho queste clip, questi stems, più che altro. Io lavoro spesso con gli stems, perché tra i miei servizi faccio pure mix e mastering, ok? Se siete interessati, ovviamente, ripeto, c'è il mio sito, così lì potete vedere tutto quanto. Quindi, quello che faccio spesso è andare a tagliare questo silenzio, che è, per me, questo silenzio, ovviamente, importante, mi raccomando, ah, perché ovviamente non possiamo fare a meno di questo silenzio, perché questo silenzio qua mi sta aiutando a capire che lo snare, gli snare, iniziano qui. Quindi questo per me è un'indicazione, il silenzio attualmente, anzi, nella fase di esportazione, è un'ottima indicazione per il tempo, per la posizione o più che altro. Però, quando poi si devono utilizzare questi file diventa inutile, ma soprattutto è anche un consumo in più per quanto riguarda il computer. Cioè, la CPU lavora di più, perché comunque va a vedere, va ad analizzare questo silenzio, ok? Per noi è silenzio, ma per il programma sono sempre dei, appunto, dei lavori che deve fare, dei calcoli che deve fare. La RAM pure, perché ovviamente questo file, anche se avete, ma che ne so, faccio un esempio, mamma mia la voce, tipo questo pezzetto, ok? Solo per questo pezzetto, ma se la traccia dura 6 minuti, ok? È tutto il silenzio che comunque consuma, appunto, spazio sull'hard disk, RAM, eccetera, eccetera. Quindi andare a tagliare il silenzio ci aiuta. Ovviamente se tagliamo il silenzio, il file, se andiamo a vedere, c'è comunque il silenzio, ok? Su Abaddon, quando tagliamo la clip, non stiamo veramente eliminando, andando a rimuovere il silenzio dal file audio proprio, fisico, che abbiamo sul computer. Ok? Quindi questo è uno dei primi vantaggi. Quindi risparmiare sul consumo delle risorse, che è una cosa, appunto, minima, ma se andate a sommare tutte le tracce che avete importato, beh, la differenza si nota. Soprattutto poi il fatto anche che ci possono essere dei click, ci possono essere dei rumori di fondo, ci possono essere altri problemi, quindi meglio tagliare questi silenzi. Un altro vantaggio è quello che, in questo caso, io non posso fare il fade in e il fade out. Come lo faccio? Da qui? Eh, non posso farlo. Quindi devo sempre tagliare la clip. Taglio la clip, vedete che in questo caso adesso mi viene più facile andare a fare così, ok? Ok? Oppure su Ableton sapete che se selezioniamo una clip, ce la va a riprodurre, dove abbiamo selezionato. Se ovviamente il file è come prima, faccio vedere, io seleziono la clip e il silenzio. Mi tocca ascoltare tutto il silenzio, ovviamente, vabbè, posso fare così, ma se abbiamo le clip in questo modo, ok? Come facciamo? Ok, vabbè, posso fare il tasto Alt, ma non vedo io realmente dove sta suonando il mio snare con questa visuale, appunto con le tracce tutte chiuse. Quindi questo è un altro vantaggio. Un'altra cosa è che a colpo d'occhio posso andare a vedere tutte le clip che stanno suonando, ok? Abbiamo tutte le cose spezzettate, tutti i rumori che non ci sono più e a colpo d'occhio già vedo subito Ah, ecco qua dove sono lo snare, in quella posizione, in quel minuto lì, ok? Quindi già questo mi aiuta pure a colpo d'occhio a vedere le clip e soprattutto i suoni dove stanno suonando. E quindi andiamo a vedere la prima alternativa. La prima alternativa viene da Mr. Bill, non so se l'ha avventata lui questo trick, io ho visto su YouTube il suo video e quello che lui ha fatto, è quello che adesso vi faccio vedere, è di selezionare tutte le clip con il classico CTRL più A, quindi CTRL più A, vedete? Seleziono tutte le clip, appunto tutti i file audio, vado qui in basso, clicco proprio qui, non qui dove ci sono i dispositivi, ma qui dove ci fa vedere l'editor clip. Ci clicco, ok? E in questo caso mi dice che abbiamo selezionato 13 clip audio, ma quello che devo fare, tolgo io, è andare praticamente dove ci sono le schede. E ovviamente se voi ce l'avete in questo modo, dovete andare nella scheda audio, questa qui, audio. Se invece ce l'avete in questo modo, ovviamente dovete andare a trovare questa icona qua dell'audio. Per esempio, quello che devo fare è alzare al massimo il gain, a più 24, perché è il massimo che possiamo fare. Mettendo a più 24 vedete che possiamo vedere meglio tutto ciò che sta suonando, cioè dove c'è appunto lo snare, dove c'è questo, però lo posso vedere meglio perché magari capita che il suono è molto basso di volume, ad esempio qua appunto gli effetti, vedete, se non avessi messo a più 24 non avrei visto questa coda, questo appunto dove inizia l'effetto e cosa avrei fatto? L'avrei appunto tagliato, quindi ho anche questo piccolo, vedete questo piccolo appunto suono che c'è qua, io se l'avessi messo tipo a zero, ma cioè come avrei dovuto fare qua? Vedete? Viene male perché non lo vedo bene. Questa è un'altra cosa che su Abaddon non c'è, c'è su, tipo su Studio One, Cubase, su questi programmi c'è un tasto che ci alza la visual, che ci alza la forma d'onda, ce la ingrandisce, non ci alza il volume. Io ovviamente sto alzando il volume e mi raccomando non mettete play perché altrimenti vi esplodono le orecchie, quindi mi raccomando non mettete play, oppure magari abbassate qua tipo il master, non lo faccio perché magari per errore lo posso fare, quindi abbasso tutto il master a zero. Dato che non abbiamo appunto quest'altra funzione che ci ingrandisce la forma d'onda, alziamo il volume. E così io posso vedere, ah ecco questo dura fino a qua, quindi lo seleziono, mi raccomando selezionate, ok? In questo caso potete cambiare griglia se volete appunto selezionare più finemente e tasto canci. Seleziono, canci, vedete che è più veloce così? Qua, vedete che qua c'è addirittura anche un piccolo rumore, un piccolo click che io non avevo visto prima e se avessi lasciato, anche qua c'è, se avessi lasciato appunto questo silenzio, beh, avrei avuto quel piccolo clicchettino, quel click. Ok, ora io voglio tagliare tutte le clip, vedete qua mi viene male, o zoom, perché la griglia è adattabile allo zoom, mamma mia, ho tagliato tutto, magari sì posso fare un sedicesimo, e quindi faccio così. Vado a tagliare tutto, ovvero gli stems sono ovviamente, sono poche. Cancello, qua cancello pure, ok? Ve lo faccio vedere così vi faccio anche capire quanto tempo ci vuole così. Comunque ci vuole sempre il tempo, però rispetto a prima è tutta un'altra cosa. Ok, mi seleziono questo, seleziono questo, magari un pochettino lungo. Ora perché magari sto facendo il video e sono un po', non sono abbastanza concentrato, però di solito sono anche più veloce che adesso. Seleziono qua, seleziono qua, elimino questo, elimino questa parte. Se vedete il video di Mr. Bill, quello è un pazzo, quello in pochi secondi è già tagliato tutto praticamente. Ok, quindi bene o male, vedete già che bello, colpo d'occhio già capisco tutte le clip, cioè qua io seleziono e ci sono i tom, che ovviamente non si producono perché il suono è basso. E meno male, meno male, già l'avevo dimenticato, perché se non avessi abbassato il master già avrei praticamente rotto queste cuffie. Quindi, ora quello che dobbiamo fare invece dopo è selezionare nuovamente tutte le clip, sempre col tasto, con la combinazione contro più A, andare qui nell'angolino in basso, cliccare qui per vedere appunto l'editor clip e adesso abbassare nuovamente a zero. Ok, come prima, lo lasciamo così, vedete? Ok, adesso riportiamo il master anche a zero e adesso io appunto, come vi dicevo, subito, velocemente, voglio sentire questo tom in questo video. punto, velocissimo, oppure mi posso anche chiudere tutte le tracce, vedete che bello, qua, vediamo questo, questo, ok, l'effetto, vediamo il basso, vediamo il sub, vediamo questo, vediamo il piano, subito mi parte, ok, vedete che è tutta un'altra cosa. E questa cosa non si può fare con il gate, ok, perché ho letto alcuni commenti sotto al video di Mr. Bill, eh, usa il gate, ma che c'è il gate? Il gate non è che toglie il rumore come in questo caso, quello serve per togliere il rumore indesiderati. Con questo invece andiamo a togliere il silenzio, che ci permette di riprodurre velocemente, di fare a colpo d'occhio, di anche risparmiare risorse, ci permette, eh, altre cose che già avevo detto prima, che adesso ho dimenticato, ma ci dà appunto diversi, diversi vantaggi. Il gate invece no, ah, è anche di togliere appunto il rumore qualora ci fosse, come abbiamo visto prima c'era un click in un punto, ok? Quindi, questa è una prima alternativa, mettete al massimo tutte le clip con il volume e poi andate appunto a fare il taglio manuale, ok? Un'altra alternativa è questa qua, è un dispositivo di Max for Live, che si chiama Remove Silence, che lo mettete su Ableton e ve lo fa lui direttamente su Ableton, in automatico. Premete, in questo caso ci sono diverse funzioni, chop, split, trim, quindi per appunto tagliare tutte le clip, vedete, dà così, diventa così e lo fa il direttamente dispositivo di Max for Live. C'è anche un video, se volete vedere una demo, io l'ho visto, sinceramente, è lento, non funziona bene, c'è stata molto a processare per una traccia, ad esempio, visto che impiegava quasi un minuto, cioè io già manualmente l'avrei fatto praticamente, quindi. Non lo so se è poi stata migliorata questa funzione, non lo so, se volete provarlo, però, appunto, in questo caso, se vedete, il prezzo è di 10 euro, 10 più, se volete donare di più, ok? Non lo so se volete provare, non lo so, vedete in anzio tutto il video e in caso magari qualcuno di voi già ce l'abbia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi trovate bene con questo dispositivo. Non posso farlo vedere perché, appunto, non l'ho acquistato, perché ho provato un altro programma gratuito, potente, che ci fa questo. Questo, appunto, ripeto, è direttamente dentro Ableton, adesso vi faccio vedere che c'è un programma che si utilizza fuori Ableton. Alcuni hanno avuto anche problema con questo, ad esempio, con la versione 10 di Ableton, ok? Questo, appunto, hanno avuto questo problema. Poi, da quello che ho capito, non fai, non lavora invece, cioè non lavora con tutte le tracce. Non lo fai su tutte le tracce nello stesso tempo. Dovete fare, prima selezionate la prima, vi splitta, selezionate la seconda, vi splitta. Ok, ci sta, secondo me, di più, così. E poi non è, a volte, molto preciso. A volte taglia, a volte no, a volte taglia delle parti che non è, appunto, dove c'è, magari, la voce, o dove c'è, comunque, il suono. Non lo so, provato, comunque, se ce l'avete provato, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sempre su Gumroad c'è un altro programma. Quello era un dispositivo di Max4Live, questo invece è un programma che si, ovviamente, non si installa nemmeno e direttamente, doppio clicca e si avvia. Questo, però, è gratuito. Non è perché, ovviamente, questo è gratuito e quello, perché se quello funzionava bene, io avrei pagato anche 20 euro. Questo, secondo me, funziona bene. Fa quel che deve fare. In questo caso, è stato testato per Ableton 10.1.30. L'ho provato sulla versione 11.3, mi pare, non mi ricordo che versione ho. Però funziona. Funziona anche sulla versione. Mi dà, prima, un errore, però poi do OK e funziona. Qua dovete mettere, se, ovviamente, dovete prendere gratis, mettete, ad esempio, 0. Selezionate per Windows o per Mac. Se vuole dare qualcosa, ovviamente, lo sviluppatore. Sarà contento e anche potrà aggiornare questo programma. Non lo so nemmeno che versione è, però, ripeto, funziona. C'è anche una versione, come vi dicevo, sperimentale per Mac. Capita delle indicazioni. Provate se avete Mac. E niente, adesso andiamo a vedere come funziona. Io l'ho scaricata e adesso andiamo all'interno del mio computer per vedere come si utilizza. Ok, una volta aver scaricato da quel sito, appunto, il programma, vi ritrovate questa cartella. E in questa cartella vi faccio vedere che c'è, appunto, questo collocamento che poi avvia questo. Comunque, io faccio doppio clic qua. E adesso mi dovrebbe aprire il programma. Prima ha funzionato. Ma, ok, eccolo qua. Allora, il programma è semplice. Quello che dovete fare è, innanzitutto, cliccare su Import Stamps. Decidere il tempo. Mi raccomando, è importante, altrimenti non vi va a tagliare in modo corretto. E decidete una lunghezza del silenzio, quanto deve essere. Io lascio così perché ho visto che funziona bene. È un ottimo... C'è già quello che si trova va bene. Se volete selezionare tutti gli stems, oppure magari non selezionerli tutti, e poi si clicca su Save As, anzi Save ALS, che è il progetto di Ableton. Ora proviamo subito. Io voglio provare con gli stems che io, appunto, ho in questa cartella. Quindi adesso importo gli stems. In questo caso, vedete, ho cliccato su Import Stamps. Qua mi dice dove si trovano gli stems. Ho preso la cartella, seleziono la cartella. Eccoli qua, che sono quelle che abbiamo visto prima. Quelle che ho tagliato manualmente. Adesso faccio io, perché li voglio tagliare tutti, clicco su Select All. Ecco qua che mi va a selezionare tutti gli stems. Seleziono, ripeto, il silenzio lo lascio così, ma devo selezionare il BPM. E il BPM di questi stems è 125. Quindi adesso andiamo a mettere qua 125. Uno, due e cinque. Perfetto. Ora devo cliccare su Save ALS. In questo caso, lui mi dice di salvare. Lo salvo sempre, perché adesso devo salvare il progetto con i file già tagliati. Quindi qua gli dico, vabbè, test. Ora qua dipende dal computer che avete, dipende da quanti stems gli avete dato, dipende dalla lunghezza degli stems. Io sto utilizzando questi che sono corti come stems, non sono tutti quelli completi. Ho provato però con gli stems più grandi. E non... Cioè, praticamente è stato velocissimo. Non me l'aspettavo, davvero. Veloce e funziona bene. Quindi adesso salvo questo progetto. Appena faccio salva, lui già si mette a lavorare. Ok. In automatico mi dovrebbe aprire la cartella. Vediamo. Ecco qua. Già, ha fatto tutto. Ha aperto anche la cartella. E c'è appunto il file ALS. Eccolo qua. Dentro, dove ci sono gli stems. Ora clicchiamo sul file ALS. Cioè, andiamo ad aprire il progetto di Abaddon. Doppio clic. Chiudiamo. Adesso mi dovrebbe dare un errore. Vediamo. Ok, adesso sta aprendo Abaddon. E adesso... Sì, mi dà un errore perché sicuramente è una versione vecchia di questo programma. E quindi crea anche un progetto vecchio. Però vedete, qua mi dice, in questo caso, vedete che c'è un errore. È danneggiato con questo errore qua. E io gli dico, live dovrebbe tentare di ripararlo. E io gli dico, sì, vediamo. Oh, il documento è stato riparato con successo. E vai. Fatemi sapere se anche da voi vi esce questo errore, se vi dà appunto... E se ve lo ripara. Faccio ok. Ed ecco qua. Vedete? Fantastico. Andiamo a vedere che ha tagliato. Ve lo faccio vedere meglio così. Ha tagliato tutti gli stems. Guardate qua. Ok. Qui vedete che c'era del silenzio? Lo ha tagliato. Potete impostare un silenzio diverso. Se cambiate da lì silence, i tempi, vi può tagliare anche alcuni... Tipo questo qui ve lo può tagliare. E questo che non l'ha tagliato, ecco, magari se avessi impostato un silence diverso, avrebbe tagliato anche questa parte qua. Quindi sperimentate, ecco, provate con magari valori diversi se non vi taglia completamente tutto. Però già mi ha eliminato, ad esempio qua c'è il tom. Vedete? Qua ce n'è un altro. Qua c'è l'effetto. Bellissimo, bellissimo. Vedete? Questa cosa adesso mi velocizza tantissimo perché mi va a fare tutto in automatico, mi crea il progetto. Ok, quindi mi mandano gli stems. Li carico su questo programma. Salvo il progetto. E poi lo apro. E lo apro già con tutti gli stems tagliati. Lo sapete di più dalla vita. E poi c'è anche che vi mette il BPM subito già impostato. 125. Ok? Dovete sapere ovviamente il BPM. Ma giustamente quando mi inviano gli stems vi dicono il BPM. Ok, ho provato con altri stems. Qua ce ne sono di più. Sono 33. E quindi ho fatto la stessa cosa. Ora apro nuovamente questo progetto e vediamo come ha tagliato questi stems. Sono curioso. Quindi apro di nuovo il progetto. Ora mi date di nuovo l'errore. Ma io in questo caso vi dico di ripararlo. Vi dico ok. Ed ecco qua. Che in questo caso ha tagliato tutti i fa. Ma guardate qua. Vediamo. Vediamo se ha tagliato bene. Uh, fantastico. Guardate. Ok, posso ripetere impostare. Vediamo se qua ha tagliato bene. Vabbè sì, un pochettino, un po' così. Ma sono cose che poi si sistemano con, in questo caso, l'opzione di silence. Ok? È da provare ovviamente. Però, guardate che c'è qua. Guardate, tutti belli tagliati. Uh, guardate qua. Questi già tutti belli tagliati. Uh, che suoni sono. Ok, anche questo pezzetto e tutti questi. Poi li posso chiudere. Aspetta, spostiamoci da qua perché mi viene anche male. Quindi faccio insert. Time. Ci metto 32. Do l'ok. Ed ecco qua. Vedete? Quindi in questo caso, tutti belli spezzettati. Gli cambio il colore. Faccio i gruppi. Ma ho già tagliato tutte le clip. Questo è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto la vostra nei commenti se avete provato questo programma. Se avete provato l'altro, quello di Max4Live. Fatemi sapere la vostra a riguardo. Ok? Sono curioso e spero che vi tornerà utile a me. Di sicuro sì. Perché io lavoro spesso con gli stems. E andarlo a fare sempre manualmente è un casino. Quindi adesso risparmerò di sicuro più tempo. Ok? Niente. Questo è tutto. Spero di avervi detto tutto. Ma sì. Non c'è nient'altro da dirvi. Non c'è nient'altro. Niente. Basta. Ok. Io adesso vi lascio con un silenzio. No, scherzo. E vi auguro una buona continuazione. Ma soprattutto una buona musica. Ciao. No, scherzo. No, scherzo. No, scherzo. No, scherzo. No, scherzo. No, scherzo. No, scherzo.